Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Un cordiale saluto, bentornati all'appuntamento con il meteo di TV6. Osservando le immagini satellitari possiamo notare ancora la presenza di un vasto campo di alta pressione sul Mediterraneo centrale e su buona parte d'Italia, che regala bel tempo e clima ancora molto molto caldo, mentre al nord dell'Europa centrale notiamo aria più instabile che dà luogo a dei temporali localmente molto intensi. Per quanto riguarda questo, martedì in Abruzzo è una giornata ancora una volta da piena estate, avremo il dominio del sole, qualche addensamento tra pomeriggio e sera nelle aree interne, in Apennino, ma non ci saranno fenomeni annessi. Le temperature in ulteriore aumento abbastanza sensibili, avremo massime fino a 33, anche 34 gradi tra Chieti e Pescara, gran caldo anche nel Terramano e fino anche nell'Aquilano. Anche in montagna avremo clima praticamente da piena estate. In aumento anche le minime, che oscilleranno tra i 14 e i 20 gradi, valori più alti sulle coste dove avremo anche quindi tanta tanta AFA. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Provencie Costruzioni, realizziamo i tuoivetomi, realizziamo i tuoi valori oghi pozisimo di chiede Cianca,